Ma cosa disegno? Tutto quello che vuoi, tutto? Non lo so Una persona? Si Ma l'ho già fatta Eh? L'ho già fatta A voi cosa vuoi disegnare? Un'anitra? Io so disegnare bene le scarpe Le scarpe? Ecco, disegna Però piccola Piccola? Si Perché piccola? Perché dopo la devo ingrandire Ah E' uscita stifosa Ma no, non è E' brutta? Ma no, non è brutta Chi ha detto? Ecco E' un piede brutto Ah, si, piedi E' uscito magro il piede Perché prima piedi dove la testa? E non lo so Non so cosa disegnare Questa è la mia collezione di palline Palline? Si Queste palline Si tolgono Quando si usa la penna Si Finisce l'inchiostro E dopo c'è dentro una pallina E dopo si taglia E si mette qua dentro Ah, ho capito Dalle penne? Si Così Si taglia così Vorrei vuota No, ora è piena Si, questa è vuota No, è piena Ora è piena E poi tu fai Ciglia così Un po' E poi Solo una rica No? Così Basta No, ora è piena No, ora è piena No, ora è piena No, ora è piena Questa montagna E poi un po' di nuvola Così Così Sentala Non è un gioco di sciarpa Che belle barche Ma su quante sono le barche? Mmm, diversi, ne? Che ne so io Diversi E poi una roccia Così Così Sentala di grazia Ehi, Alessio Ehi, Alessio Ehi, Alessio Mio disegno Bello Bello Ora lo colora Colorare? Ok Dina lei Ok Perché mi dici lei, 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 lei? Perché ascolto Che gridano Davvero? Sì Non dica del tu No Da noi due A condotta Attenzione Ok